E' la partita più attesa, il derby che potrebbe risultare già indicativo se non decisivo per Chieti e l'Aquila con un obiettivo comune chiamato Serie D allo stadio. Angelini e Alessandro Lucarelli ripropone l'Aquilano, Luca Fabrizio al fianco di Galli per scalfire le certezze granitiche di una difesa rosso-blu che non subisce gol dal primo marzo 2020 in promozione. Il tentativo di Puglielli è questo, il primo spunto di una gara che vive di fiammate, uno dei tanti ex Chieti. Giuseppe Catalli spedisce sul fondo gli altri ex, Venneri e Ricci schierati in difesa da Roberto Cappellacci, mentre Stefano Micicchi è sistemato in attacco nel tridente e completato da Pellecchia e Di Paolo. L'intervento successivamente da parte di Andrea Venneri su Niccolò Corticchia che vale il calcio di rigore assegnato da Francesco Aloise della sezione di Lodi che non ha dubbi nell'indicare il tiro dagli 11 metri. Può essere la svolta della partita questa perché dal dischetto si presenta Marco Mariani che punisce Domingo Dalmasso, violata la porta dell'Aquila dopo 945 minuti. Segna Marco Mariani dopo il palo colpito con il lanciano il gol dell'1-0. In favore del Chieti momentaneamente ha più sei sull'Aquila che deve reagire qualche timida protesta da parte di Ricci in proiezione offensiva per sfruttare le proprie abilità in area avversaria. L'Aquila che spinge e guadagna un calcio di punizione dal lato corto dell'area di rigore si presenta sul pallone. Saverio Pellecchia che realizza la rete dell'1-1 buona l'esecuzione dell'esterno d'attacco ma qualche responsabilità c'è nel frangente da parte di Alessandro Russo che sostituisce l'infortunato Matteo Forti assenti nel Chieti anche Verna squalificato e Mattia De Fabritis nell'Aquila. Non ci sono Chicarella, Lennart e Moscianese. Luca Fabrizi costringe in corner Domingo Dalmasso e anche l'ultima azione pericolosa dei Neroverdi prima del duplice fischio mentre sono rare le chance da una parte e dall'altra nella ripresa l'affondo di Lenoci a convergere per Stefano Micic che è il tentativo dell'attaccante rosso-blu un po' in ombra rispetto alla gara con il Delfino Flaccoporto cambia atteggiamento tattico Roberto Cappellacci che passa prima al 4-3-1-2 poi ad un 3-5-2 a specchio con il Chieti che a sua volta cambia gli interpreti in attacco fuori Galli e Fabrizi dentro Spadafora e Rodia esordio per Mastrilli che prende il posto di Pietrantonio e di Consorte l'ultimo blitz teatino Neroverdi che nel secondo tempo alzano decisamente il baricentro cercano il pertugio giusto per il nuovo vantaggio c'è spazio anche per l'ingresso di Anas Icramellama le occasioni importanti latitano fino al triplice fischio devono accontentarsi di un pareggio Lucarelli e Cappellacci nel big match dello stadio Angelini Chieti 1 L'Aquila 1